E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono EpicFailita e oggi giochiamo a Survive.io Niente, oggi lagherò un po', scusate perché non è colpa mia della connessione ma è colpa del gioco che in questi ultimi giorni sta laggando un pochino ho già fatto qualche prova ma non lagga tanto come ieri perché ieri dovevo registrare questo però non sono riuscito a parlare perché la gava sta dicendo Niente, guardiamo qua in giro, cerchiamo di trovare qualcosa di utile allora spacchiamo questo Oh, uno zaino, perfetto Anche un bello zaino Granata Perfetto Oh, 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 chi c'è lì, chi c'è lì maledetto Ok Andiamo a vedere qua nel bunker, no Niente Chiudiamo la porta Ok, prendiamo questo qua al mio amico Oh, bombe Andiamo a vedere assoluto Non c'è scritto se sono lontane, cavolo Eh, ci sono dei momenti che non parlerò perché sono molto concentrato, a volte non parlo Ehm... sto... c'è da poco che registro quindi credo sia normale Eh, ogni tanto mi blocco Però voi non fateci caso Ehm... Vabbè Adesso comunque posso... Adesso ho paura che esploda No, non esplodo, ok Uh, perfetto Quando è sporco Diciamo il... 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 Il water Eh, significa che Che contiene qualcosa di buono Cioè nel senso Che è molto Che... Ehm... È molto fortunato, diciamo Che contiene più cose di quello normale Adesso comunque delle bellissime armi Non mi lamento proprio Perché è questo qua Da vicino E lo spas da lontano Ricarichiamo i colpi ovviamente Facciamo un po' di pulizia che non ci veda Zenn normale che è il mio Un altro spas Wow Che storia Oddio che paura Sì, io sono un tipo molto pauroso Allora Guardiamoci qua intorno Spacchiamo Vediamo dei miei amici Ah, i miei amici sono morti Cavoli Non me ne sono accorto ragazzi Eh, niente Andiamo a cercare l'altro mio amico Che è un po' Bloccato No, è fuori safe Eccolti qua Ciao Ciao Io sono Ipikfedita E Qua non riesco a mettere il mio nome Non so perché Ma non ce la faccio Adesso comunque giriamo un po' qua Guardiamo un po' in giro Con questo qua in mano adesso Perché Con questo qua che si avvicina Lo faccio fuori Eccolo Eccolo Avete visto Cavolo 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 Eh, cavolo Sto usando quello da vicino Per lontano Ah, via 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 Scappare 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 Queste qua Sono delle bombe Il mio amico Mi sa che è in pericolo Dov'è? Dov'è? Ah no Pochissima vita Oddio Dai, gli ho dato un medikit Ragazzi Per aiutarlo Grazie a tutti Ma Il mio amico Non usa i medikit O mi sta prendendo in giro No, perché io non gli spreco i medikit così Cioè ragazzi Veramente non l'ha usato Sono sicuro a questo ragazzi Ah, ok Oh, oh, oh Ti difendo io Ok Eh, mi son fermato ancora un attimo Che non ho parlato Mi sa Io, cioè Faccio quello che riesco Allora Andiamo qua a cercare È finito quello là Quello Cavolo Se ne è scosto Adesso arriva ai big fail A sistemarlo No, 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 no No, sono morto ragazzi Aiuto Il mio amico non mi salverà di sicuro Esatto No, 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 no Non ci credo Ragazzi Non ci credo Eh, giochiamo ancora Eh, niente Ok Ok Piccolo lag Perché lagga un pochino A inizio partita Poi smette Ok Andiamo un po' qua Andiamo un po' qua Giriamo su Di noi Dov'è il mio amico Che è già morto Non l'ho già ammazzato Niente Eh, vabbè È così sto gioco I tuoi amici sono stupidi Io sono più intelligenti di te Ripende Oh, chi ha quello? Dove scappi tu, eh? Dove vuoi, eh? Vuoi la rissa? Vuoi la rissa, eh? Ok C'è quello? Non è neanche un mio amico, ragazzi Che cavolo Finché non lo apro Non mi sposto, però Non credo che Ci voglia così tanto In teoria Ah no Se stareste in genere Se i ragazzi Niente Ok Basta Attimi di panico Io vado a pulmi Mio amico è forte Ho un amico forte Ho un'arma forte Non ho colpi Oh Se non pro, se non pro, se non pro, se non pro Se non pro, se non pro Non è vero No Non ci credo Niente ragazzi Direi che per oggi è tutto Questa fine è molto tragica Odio Ragazzi è andata così Vabbè Noi ci vediamo a un prossimo video Cioè O domani Che magari faccio Cucino un qualcosa di speciale Oppure Oppure Non so Devo vedere un po' Se no lunedì O domenica Vediamo Per oggi è tutto Ci vediamo in un prossimo video Commentate Lasciate like Condividete i video Guardate gli altri video Ciao a tutti Ciao a tutti E Alla prossima.